Io avevo in testa ma che non avevamo mai realizzato. Pagina Bianca la prima volta è stata un po' una scommessa, un po' una pazzia. Era qualcosa che io avevo in testa ma che non avevamo mai realizzato. Grandi, immense pagine bianche che si mangiano le piazze per restituire una dimensione pubblica alla socialità. Bologna è stata un'esperienza incredibile, a parte che quando ci crede davvero sempre sa bene. La notte del 30 gennaio a Bologna fiocchiava neve. Il giorno del primo febbraio a Bologna è scesa tanta neve quanto erano anni che non si vedeva. Noi abbiamo fatto la pagina esattamente nel mezzo. Pagina Bianca a Genova ha aperto le giornate del Paese Internazionale di Poesia. Pagina Bianca è un grande spazio di libera espressione, dove chiunque è libero di gettare il proprio seme al vento e dove la primavera nasce un foglio di carta. Napoli è stata altrettanto un'altra esperienza pazza. Pagina Bianca Pagina Bianca Pagina Bianca Pagina Bianca Pagina Bianca